Io non soffro di superbia, no? Se il dialogo può produrre risultati positivi per la platea dei precari pugliesi, io sono persino disponibile a chiedere scusa al Ministro Fitto. E' più che una dichiarazione di pace quella che il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, rivolge al Ministro degli Affari Regionali, Raffaele Fitto. Vendola ha deposto le armi ufficialmente con una lettera in cui invite il suo antagonista del Governo a riaprire il confronto sulla questione internalizzazioni nella sanità. Una marcia indietro rispetto a qualche giorno fa quando rispondendo al Ministro che gli chiedeva di spiegare il perché della frase Fitto ha costruito la sua vendetta, aveva riaperto il fuoco dicendo che il tempo dell'ipocrisia era finito. Oggi invece il tono si fa conciliante. Si può dialogare. La condizione del dialogo è rispetto che gli confronti dell'altro. A me l'ipocrisia non è mai sembrata un fatto di rispetto. Io sono sincero quando racconto che ho vissuto questi mesi come una grande violenza nei confronti miei e nei confronti della Puglia. E' come una grande ingiustizia nei confronti miei e nei confronti della Puglia. Detto questo, la disponibilità al dialogo, se il Ministro Fitto e il Ministro Tremonti non avevano alcuna intenzione di arriccare un danno ai lavoratori precari della sanità, bene, basta sedersi a un tavolo e trovare le soluzioni che possano restituire un orizzonte di certezza, di diritto e di speranza a questi lavoratori e a queste lavoratrici. La consulta però, alla consulta resta l'ultima parola Presidente, quindi è questo il punto cruciale di tutto il discorso. Ma nel frattempo i lavoratori di Lecce avevano vinto i ricorsi che erano stati fatti contro di loro e il Tar sostanzialmente aveva avallato la possibilità di assumere in una società in house 700 lavoratori di Lecce. Prima del giudizio della Corte Costituzionale che riguarda la competenza, chi ha competenza a fare questo tipo di leggi si poteva consentire a noi di stabilizzare quei lavoratori. Non fanno male perché quei lavoratori stabilizzati costano di meno di quanto costano da precari. Disponibilità da parte di Fitto che chiede a Vendola di compiere un altro passo verso il dialogo eliminando la parola vendetta dal suo vocabolario. Dal canto suo Vendola è disposto a fare il possibile. Niente vendetta però? Io non sono uno vendicativo, nemmeno con le parole. Devo dire che mi secca essere oggetto di vendette. Però possiamo rinunciare alle parole se gli atti che si vuol mettere in campo sono quelli coraggiosi che migliorano la qualità della vita degli altri.